Ciao! Puoi presentare il nome di cui sei? Sì, sono Arianna e siamo dall'Italia. Sono Lorenzo. Grazie a te conoscere! Ciao! Hai venuto qui per la prima volta? Sì, è la prima volta in Giappone. Giappone. Mi piace molto. Especialmente la città. Quindi abbiamo accettato il tuo progetto. Siamo un paio e viaggiate in Giappone? Sì. Hai venuto solo a Tokyo? O vedi a un altro altro? Siamo in Tokyo, Osaka, Kyoto. E in Kinozaki Onsen. In Kinozaki Onsen, sì. Nara. E in Imeji. Ok. Quindi hai venuto in una zona turistica? Sì, especialmente in un'area turistica. Sì, ora siamo in Asakusa, che è anche un paio. Ok. Quindi hai venuto i frutti giapponesi, come tempura, sushi, ramen? Abbiamo ramen, sushi. Sushi. Abbiamo ancora provato tempura. Tempura non ancora. Ok. Quindi ho conosciuto tempura qui. Quindi posso portarti e provare. Ok, vabbiamo! Ok, vabbiamo! Ok, vabbiamo! Quindi dovremmo aspettare un po' più tempo, perché è solo 4 anni. Quindi hai venuto sushi o ramen? Cioè come è stato? Sushi è molto buono. Sushi è molto buono. Comparato con quello che abbiamo in Europa, è stato incredibile. Especialmente la tuna. Ok. La tuna è come... La fatica tuna. No, non abbiamo fatica tuna in Europa. Credo che non vengono in Europa. Oh, ok. È solo per l'Asia mercato, magari? Non lo so. E abbiamo anche venuto a un ristorante di sushi in Italia. Ma non è così buono. 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 La tuna è qualcosa di... È sembra come la carne. Mh! Ma non è così buono. Ah, merda. Ah, sì. Ma è molto buono. Oh, davvero buono. La quantità di wasabi e la salsa. La più buona la pasta. E anche la prigione è buona. La qualità e la prigione. È tutto buono. È anche il ramen. Ma il sushi è buono. È così buono. È così buono. È così buono. Ho spero che hai una ricerca con me. Come Femtura. E anche... Credo che ho prodotto ragù di beef. È così buono. È così buono. No, è così buono. Ci sono scuri. Ah, è così buono. E ci è come in dinarme nel... Sì, uno al honor. Oh, una sous? È questo? I pizza. È così buono. No, è così. È così buono. Приggine da un corno nella panace Sì, abbiamo amato questo, vogliamo portare i inglesi all'Italia. Molto atmosfera. Sì, soprattutto con la flore. Sì, lo amiamo. Sì, molto bene. Questo è radici e limone. E questo è cancilla. È una salsa speciale per la tempura. Per dipendere in questa salsa. Ok. Arigato gozaimasu. È molto bello. Non ho capito che potessi trovare molto di bia in Japan. Ah, ok. Sì. Abbiamo aspettato il sake e il whisky, ma non c'è molto di bia. Oh, davvero? Sì. 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 Tempura. Tempura. Sì. 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 un po' di wasabi quindi devi mettere in salsas ma non devi mettere in salsas ma è molto difficile andiamo? è difficile Sì, è bello. Ma anche il soisosso è diverso. Sì. È molto buono. Questo è il soisosso. Oh, ok. Per il soisosso. Mmmmm. Tasty. È molto buono. È quasi dolore. Sì, c'è un po' dolore. Oh, sì. Sì, è bello che ho sentito. È molto buono perché vi è da un paese del paese. Sì. È molto bello. È un motivo per cui noi siamo venuti a Giappone. Ma mi piace il paese del paese. Sì, e mi piace la città. Sì, e mi piace la città. Potremmo magari, se vogliamo provare il sake, possiamo provare il sake. Vi sa che non piace il sake, ma io ho. Ok, ho provato. Ho provato. Ho provato. e vediamo se... magari posso cambiare la mia mente perchè è davvero forte se non è forte non mi piacerebbe questa è un pozzo un pozzo questo è il shiitake questo è il peccato con il matcha salto questo è il peccato con il green onion salto quindi la salto non c'è solo solo la salto il shiitake e il mashu ok, vieni è ancora meglio che il miele è molto forte con questo mashuano puoi sentire e il tempura è molto molto e un pozzo un pozzo ma molto piacere e molto piacere e molto piacere proviamo l'altro e poi torniamo alla piacere un pozzo un pozzo un pozzo un pozzo un pozzo è molto piacere è molto piacere ma il matcha salto è molto piacere e poi l'olio si prendono tutto il frattore e è stato un pozzo 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 molto buono ma la città è la mia la mia la città la città la città è la città la città la città è la prima città e questo è un pozzo è un pozzo è incredibile mi piace truffle è incredibile e la truffle è incredibile è solo la città è un pozzo questo è come un miracolo non so come la città come ho detto l'italiano è famoso nel mondo e puoi vedere molti italiani abbiamo visto che abbiamo provato una oh ho provato una sì abbiamo provato una Kyoto sì siamo in una pizzeria una pizzeria è una città o no non non era una città era una città molto piccola molto piccola e molti italiani scrivono su google che era come in Italia è vero hanno fatto una pizza come in Napoli anche anche le ingredienti e le flavor e quindi alla fine abbiamo chiesto il chef se ha avuto in Italia non 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 ha avuto in Italia ha avuto questa pizza è una pizza è una pizza la pizza è una pizza per le persone in Kyoto che vengono ad provare un italiano in Italia quindi siamo davvero impressionati questa è molto bella è bella e abbiamo trattato no siamo dratti in the end yeah that's right this is the carrot with the eggplant tempura so the carrot itself is very sweet yes you can eat it without any sauce okay with the eggplant i recommend that you dip in with the tempura sauce okay and enjoy it okay yeah this big eggplant yes become like this it's like art so let's try sorry for my face the smell is sweet it's very sweet it's weird i like this one so we found oh you found it yeah i'm glad that you know you found it i'm so surprised me too oh we will make some disaster yeah it's very crunchy yeah like a chips i will reveal to you that she doesn't like carrots usually yeah but this is like more than carrots yeah like a potato sweet potato it seems like a little potato yeah i already finished my carrots yeah and this tenzier is a sauce for tempura okay this is soy sauce okay but they put like some seasoning like a mirin okay and also broth of the fish okay okay so it really very tasty so be careful it's very big so yeah you should yeah it's very good very good so crunchy outside yeah and so tender in the inside and also the flavor of the eggplant yeah you can feel it the opposite of sweet bitter bitter it's not bitter it's not bitter because you know usually it can be bitter yeah but this is not at all when you cook too much it gets bitter oh i see and so juicy 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 this sauce is incredible it's really a foodie country yeah and also this restaurant is good so i have got i found good this restaurant yeah thanks yeah thank you i mean this is also my first time you gave me the chance and especially i found a sake that's impressive yes oh so from now on i'm going to perform the smoke whoa okay okay so three two one from now on i will turn this squid into the black one okay 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 it's very good for your health oh okay wow nice really nice looking forward we'll do it right now so please just wait for me okay for sure we will wait i cannot wait it's such an experience yeah it's such an experience yeah visibly to you and to me too people are always nice oh yes like even though try to help you yeah also if they don't know how to speak english yeah but yeah we found that it's very easy okay yeah yeah because yeah because you are very very gentle yeah extremely gentle yeah like uh extremely gentle try to help you i i also lost my phone and it was fine really yes kyoto station really i lost my phone in kyoto station and i found it oh wow thanks we went to the to the to the train and then i realized i lost my phone my phone where is my phone then a lot of people i helped her to to search on the train really why you went when we had breakfast and it was there the people who work there already take the phone and keep it and so yeah it was like super nice i don't think that it will happen so extremely gentle population the main the main thing in japan in japan and that that it's very safe yeah you feel safe everywhere small city in the big city in europe usually yeah depends usually in the big city maybe when you are not in the center you are out of the city you don't feel so safe oh okay how about like a transportation is okay shinkansen or a train natural you are speaking with the fans of shinkansen very nice he made more video of the shinkansen than of me because also in italy we have a high velocity train yeah yeah and made in japan but our train are made in itachi itachi oh really yes okay for me are the same in italy and japan but in love the japanese one much more okay no because the infrastructure is is more wider and you have a lot of train very brief time and they go very fast everywhere in italy it's on time yeah extremely on time extremely on time like extremely on time no but also in italy the high speed the train on time yeah usually but are there other trains you know local local because i took the train to go to work and local trains they made like one hour late on 40 minutes so so the next item is gonna be the seafood 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 is the white fish this is the squid then the lat this is the squid yeah yeah the name of this fish in japanese no it's kiss kiss i do represent our most common food the spider tenguru spider like a head of the shrimp oh okay yeah the head of the shrimp daily fried and and you eat it yeah yeah you can it's kind of crunchy okay yeah oh my gosh it's strange how do i say it like chips chips really yeah yeah like the chips it's already done thank you why are you gonna eat squid first okay the black one okay it's great it's a bit chewy but it's it's already salt on it it's already salt on it okay so that's it that's it it's strange but i never tested the flavor of the squid like this smoke before yeah yeah extremely tender for being squid you see the squid is a bit chewy yeah but like this is extremely tender okay good i will save one piece like the mushroom the white one the white one the sauce might make the difference it keeps uh it's crunchy it keeps uh it's crunchy yeah after that you dip in the sauce it's a very nice fish at the end did you squeeze it anymore okay let's try and a little bit salt probably okay 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 what you came there no regret close your eyes it's like a trench potato yeah it's good yeah it's not too hot yeah yeah it's not too hot it's like the temperature it's like the tempura softness the the shell yeah 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 and with the lemon i didn't expect it it was so strange yeah because usually we don't eat there we don't eat there yeah there you leave there yeah yeah this is you can maybe also put some salt some salt yeah okay yeah very good it's very good black squid again happiness come back the best one this one is the best one so now we finish tempura hot hot okay so we are waiting for wagyu wagyu for the last do you like it yeah she's in love yeah okay wasabi and soy sauce this is truffle okay it's truffle sauce oh okay okay i love this one well if you want to put soy sauce probably with the wasabi okay we'll try wasabi and soy sauce it's very good but it's fried it's crunchy on the on the side yeah because it's fried yeah they try like like tempura yeah mmm so good it's so good i'll get tempura i'll get tempura that's nice yeah it's spoon let's try with the wasabi bono bono bonissimo bonissimo bono oh it is much salt it gives a transitive flavor what did you try now wasabi and soy sauce so juicy questo è il smokedo? si, è il smokedo è un'altra cosa che ha diversi fasi si, può provare truffol è molto bene il truffol è molto bene il smokedo è molto buono il truffol è molto buono è molto buono l'ultima, l'ultima, l'ultima l'ultima, l'ultima l'ultima, l'ultima l'ultima, l'ultima è speciale perché ha tempura e l'allocchia e l'allocchia e poi dip in la salsa è molto bello è molto bello anche con la salsa si può sentire il dolore dell'allocchia l'ultima, l'ultima l'ultima non sei sbagliata tu devi mantenere la stessa in tua mano vengo a riportare alla città vieni a riportare vieni a riportare non ci sono buoni vieni a riportare vieni a riportare vieni a riportare perché in Giappone ha tantissime vieni a riportare due settimane non è enough per Giappone non è comunque Non. È difficile trovare così tendere. Non come un'olio. No, è molto freddo. È come metterlo in una mano. È 8 o 5 gram di meat. È già tendere. È già tendere. La ultima meal. Tamago. Che bello. Molto. Molto. Spoon. E poi mix. Non preoccupi. In Japan, è un'olio di controllo. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. È un'olio di carbonara. Si, è un'olio di carbonara. Non c'è nessuno. È molto buono. È una cosa che possiamo fare anche a casa. È molto buono. È molto buono. Allora, abbiamo finito. È molto felice. È molto felice. Veo, è molto felice. È molto felice. È molto felice che il nostro canale. È molto felice che ci sono riusciti. È molto felice che ci vediamo. È un'olio di ultimo giorno. È il nostro giorno. È un'olio di più. È un'olio di più. Grazie. È un'olio di più. Ok, bye-bye.